Si chiama Lisa Chiles o Chiles a 61 anni di età e pensate che questa è arrivata a compiere un gesto verso se stessa di grande importanza. Ha perso infatti la bellezza di 63 kg in totale. Ha deciso di compiere questo gesto anche perché la salute viene al primo posto e di conseguenza ha detto basta, non si accettava più. Si è vista per una foto infatti del passato si era abbandonata internamente a mangiare, a consumare cibi di spazzatura, food sporco, cibo sporco e così ha deciso di cambiare vita. Ha perso 63 kg in più della sua metà del peso corporeo. È arrivata a pesare 120 kg, difficoltà respiratorie, difficoltà per qualsiasi voglia tipo di attività da svolgere, vedendo quella foto si è resa conto, si è accorta della situazione che non era più gestibile. È riuscita a dimagrire perdendo un peso incredibile e adesso è una donna nuova, è una donna ringiovanita, infatti vi ricordo che avere un peso maggiore per chi ha una certa età secondo me può creare un invecchiamento a livello estetico, visibile, palesi, tangibile. Da narratore italiano di Youtube Italia è tutto, iscrivetevi, commentate, ciao a tutti.